Sono Oliverio Lorenzo, studente al terzo anno del corso di studi in scienze del turismo presso l'Università degli Studi dell'Insubria. Consiglio fortemente di intraprendere questo corso di studi presso la nostra università perché mi ha dato l'opportunità di approfondire la materia turistica sotto il punto di vista giuridico ed economico e di affrontare tematiche molto attuali ed importanti come quelle della sostenibilità ambientale, permettendomi inoltre di instaurare un rapporto estremamente diretto con i professori grazie alle ridotte dimensioni dell'Ateneo. Inoltre mi ha anche permesso di entrare a far parte dell'organizzazione viva del corso, infatti per due anni ho rivestito il ruolo di rappresentante degli studenti nella commissione Aequa del corso che si occupa della sua organizzazione sia presente che futura.